paturni e sottosale già il fatto di fare un viaggio in italia quei tempi e forse da sola non so non ho mai indagato forse con un marito dei figli visto che sembra averne avuti chissà anche prima di me ma certo accontentandosi di alloggi di fortuna oggi qui domani là e la pazza idea di una specie di bagnino di primo pelo dove le capitava di tuffarsi giocava alla finta povera i pianzi tempo e lì per sfiorire del tutto nel suo pensiero stupendo di pura razza ariana avrei potuto chiedere a mio padre che tipo di donna era quella delle due merende al mare almeno in seguito o in seguito per ben poco tempo ma non l'ho mai fatto io non sono curioso dove posso farne volentieri a meno temo che lui ne sapesse addirittura meno di me era un ingenuo un cazzetto a zonzo sul lido e poi a pulir patate in una cambusa non credo abbia fatto molta strada anche se avrà attraversato tutti gli oceani di questo mondo se lui non aveva e non ha mai pensato di darmi delle informazioni e nemmeno per lettera nemmeno facendosela scrivere significa che non aveva informazioni da darmi a parte quella che doveva ben sapere mi era stata data da sua madre mia nonna e senza tante infiorettature forse quello che mia nonna mi ha taciuto ma solo perché ero così piccolino quando è morta e poi per l'appunto sono stato affidato ai preti del brefotrofio prima e quelli del seminario dopo è che quella mia madre naturale alla quale va comunque l'ambiguo merito di non avermi abortito c'hai pensato da te dopo si rifaviva la vocina di sfottò quella mia madre insisto deve avere lasciato giù dei bei soldini affinché mia nonna che lo fosse o no mi tenesse a balia mia nonna che con ogni probabilità si era abituata allo stressante malaffare delle miserie della guerra non mi ha mai fatto mancare niente avevamo persino una capra da latte e parecchie galline nel recinto sacchi di farina e di mais uova e pasta fatta in casa volontà l'importante era che né io né quell'altro bambinone di mio padre intralciassimo mai i suoi movimenti i suoi intrallazzi i suoi pernottamenti altrove rientrava all'alba buttava giù la bici dove capita capita e stato inverno si tuffava in mare la spiavo dall'oblò nella lamiera prima che diventasse un muro con una finestra addirittura con vetri e ante e non potevo ancora immaginare che non era per nuotare ma per lavarsi poi capì ma mi meravigliai lo stesso perché si lavava solo sotto le ascelle e dentro la scanalatura dei seni e continuai a non capire per un bel po' ma è il seminario che più allontana dalla mia vita quotidiana dalla vita quotidiana degli uomini e delle donne più acuisce l'immaginazione apre gli occhi della mente sull'uso più impensabile di quelle parti anomale per una abluzione e sugli sconti se i maschi sono in comitiva e si procede di tre in tre la schiena dell'innominabile ora non è più girata rispetto alla mia posizione sta addirittura di profilo ma se fa finta di niente lui figurasi figurarsi io e stava dicendo sorridendo in modo smagliante ma sì l'enciclica più cavernicola del secolo la donum vitae che pizza agli embrioni e finocchi ognuno scrive e diffonde i suoi pizzini come può il vaticano è tutto un bunker di matte che nei loro boudoir si ispirano al paradiso maurizia chiamano la ragione civile relativismo etico e ci bombardano di moniti contro sto relativismo etico ma scusate cosa oppongono le folli bertucce al relativismo etico se non l'assolutismo criminale è una rifattissima signora meneghina di fa e cosa pensa della nostra televisione non è uno scempio dei nostri soldi e lui no se sulla scena irrompe paolini l'unico vip che vale il canone a parte lei solo con quegli zigomi darling farebbe il 69 per cento di share chiudo il catalogo quasi di botto lo consegno a quella perpetua di moglie e vado di filato alle foto appese vedermi ora nella foto non più nel catalogo ma la parete con quel nitore in più che esalta il grigio della carneficina collettiva ufficiata per un fine superiore ulteriore intendevo pensare acuisce i grumi di memoria fino a darmi fitte di cervicale chi ero chi volevo congelare in me con quelle docce gelate ora io con l'acqua calda non solo mi lavo ma fredda la odio anche da bere la bevo solo se più che tiepida per andare di corpo produco solo merda una colata di merda via l'altra la merda dello stitico quando finalmente va di corpo quando non ce n'è più ce n'è ancora quanti anni ho lì di già 19 18 19 portati da adolescente ma io quando tutto è dolore niente è dolore non può esserci stato il dolore non me lo ricordo non come qualcosa che si staccava tanto da qualcos'altro da farci caso se non ho mai desiderato essere altrove dal seminario non è certo perché siano rare le informazioni che filtrano sino qui dentro o perché nessuno di noi abbia una qualche idea di posti diversi da questo con gente diversa da questa questa qua tutta in nero a parte le loro famiglie coi fazzolettoni in testa o attorno al collo e gli zoccoli ai piedi che i pretini tendono a vedere sempre più raramente anche i nostri libri di testo sono illustrati e sarebbe bastato un mappamondo per rendersi conto che esistono geografie sconosciute e senza sforzo affascinanti mica bisogna aspettare una cartolina che comunque non mi è mai arrivata forse mai consegnata e avrebbero fatto bene i padri veri per me il mio posto lontano da qui è proprio quello dove sto e pochi mi crederebbero anche i miei superiori se rivelassi che non nutro curiosità che si spingano oltre il portone che mi segrega quando ci viene permesso una volta alla settimana e mai più di mezz'ora di fila di sedere in sala mensa davanti alla televisione in speciali occasioni in cui parla il santo padre o un qualche pastorello visionario di fatima o una ex posseduta dal demonio che ha fatto il triplo salto mortale e da imbalsamata è stata integrata tra le schiere delle beate si vede pur sempre abbastanza del mondo per desiderarlo anche se solo in bianco e nero la piazza gremita di palloncini trionfi di gigli su tavole imbandite signori in espressioni contrite col fular di seta in testa ma pur sempre molto belle e abbastanza pie da volerle profanare esche a dozzine per desiderare fare una fuga anche breve da qui dentro a fuori di qua io no conosco la parola rimpianto e non è perché ho solo 13 14 15 16 17 18 19 20 anni che non mi passa mai per la testa e quanto a nostalgia ho solo quella per l'oblò della lamiera non avrebbero mai dovuto sostituirlo con una finestra il cardellino non si sarebbe dilaniato senza capire che non era un altro cardellino invece molti miei compagni che ancora sospirano piangono di notte nelle loro cuccette hanno già rimpianti e sono addirittura più giovane di me so a cosa pensano o me lo posso immaginare perché siamo fatti di carne e osso umane e siamo così bambini ancora così pieni di turbamenti ai quali riusciamo a dare una qualche forma organica grazie all'idea del male che qui respiriamo come l'aria e che ci viene per così dire inculcata molto più che con l'idea del bene l'idea del male qui insegnata è davvero molto grossolana grezza una predica per contadini analfabeti e per dannonziani sifilitici e non ha mai avuto alcuna presa su di me tante tiritere sui peccati della carne e le fiamme dell'inferno la chiesa dovrebbe aggiornarli un po sti peccati e sti gironi anche mongoli e mongoloili tra un po andranno sulla luna noi non possiamo stare fermi sui pioli in giù di una cantina che butta fiamme di carta stagnola non posso avere un vero rimpianto quello di prendere una donna tra le braccia e far e darle un bacio ma provo compassione e tenerezza per chi ne ha è così duro per i più non è afferra per i più non afferrarsi almeno con la mente a una donna o a un compagno da carezzare io so tutto di me anche della mia avvenenza fisica noto come mi guardano certi ragazzi e la lavandaia e la cuoca che insieme arriveranno a un secolo e passa di anni e anche il don profe l'effemminato insegnante di religione religione che ha i cespugli di peli neri anche sulle nocche io non abbasso mai il mio sguardo se vengo fissato e passo oltre faccio finta che sia il loro uno sguardo di muto e blando saluto al quale rispondo con un mezzo sorriso di cortesia perché qui non si fa ovviamente che incontrarsi e né puoi sempre formulare un saluto a voce né sempre avere un qualcosa da dire per fermarti a parlare io capisco il loro sguardo loro non possono capire il mio sorvolare che afferra il loro solo per che affermi che afferra loro solo per depistarlo ma non c'è supponenza o disprezzo fastidio nel mio non mi posso permettere di tradirmi perché sarebbe come ammettere che sto che so interpretare le loro intenzioni e che quindi potrei sia averne avendole sia averne non avendole ancora messa a fuoco l'innocenza va ben al di là di una virginità di pensiero e di azioni è la necessità corruzione della medesima per salvaguardarla dagli attacchi esterni e renderla intangibile non so se c'è eccessivo amor proprio in questo ma a me non è mai costato eccessiva fatica a dare per perso il mio corpo e i suoi slanci una volta per tutte non lo metto in conto è la cancellazione progressiva lo ammetto non mi suscita notti a parte particolari miasmi di spettri il mio è un corpo che non si vendica su di me per non essere messo in gioco con i corpi degli altri non che io me ne avveda anche se mi sveglio in una veronica di sudore e di umori non ricordo niente e di questo ringrazio dio perché posso immaginare cosa sarebbe per me non risparmiarmi la crudeltà di ricordare sogni dolci e abbietti io non sarò l'estensione dei miei tessuti cavernosi non avendo potuto avere lei io non avrò donna certo la volontà e lo spirito di sacrificio per mantenermi non dico puro che è una parola insensata ma per diciamo mantenermi all'altezza del pensiero che mi sono fatto di me e del mio destino di sacerdote all'inizio mi facevano soffrire molto e poi gradualmente più vedevo con sua malettizia arrivare dei risultati sempre di meno fino ad avversarsi ogni pena io non nutro alcuna sufficienza o gelosia o invidia o superbia per chi per ciò che sono e per ciò che a differenza di me non sono i miei confratelli molti di loro sono venuti qui perché spinti da famiglie indigenti che non potevano farli studiare e talvolta nemmeno sfamarli abbastanza io capisco che loro guardandosi allo specchio per farsi la barba vedono anche una faccia che nemmeno la madre a cui assomiglia osa più accarezzare e che è una sofferenza e che non c'è speranza che questo cambi pena lo scadere a uno stato che niente ha a che fare con quello del prete o meglio che niente ha a che fare con lo stato che un prete dovrebbe avere con se stesso perché alla società dei fedeli o e no poco importa che cosa faccia e che cosa sia e che cosa senta o che cosa dica di sentire un prete il gregge è abituato nei secoli al prete che dice una cosa e un'altra ne fa la sua sacralità sta proprio nel fatto che può permetterselo senza mai pagare dazio ci pensano gli agnelli e le pecore stesse a pagarlo per lui l'unica coerenza che gli viene richiesta è abbassarsi a sgozzarli o a tosarle fino a che producano più latte e lana dell'erba che brucano non è certo mentendo alla società che un prete perde il suo stato di prete è mentendo a se stesso proprio come chiunque altro si racconti menzogne per tenere il passo con un'identità che ha perduto e io che aspirava questa divina coerenza sono stato scelto per diventare il pastore macellaio per antonomasia non so come ma otto anni in terza elementare svolsi un tema in classe che si concludeva con questa frase non mentirò a me stesso e vivrò per sempre felice e contento insieme a dio ancora non sapevo bene l'enormità che mi era uscita dalla penna tanto che ricevetti una sonora tirata di orecchia dal maestro perché avevo scritto dio con la minuscola a distanza di mezzo secolo e passa qui lo dico e qui lo nego andava scritto con la minuscola dio è molto più terra terra di quanto lo si voglia senza che lo voglia lui se lo senti in te come lo sentivo io lo senti così perché si fa minuscolo e fai tutt'uno e lo scrivi dio per la stessa ragione per cui non scriveresti mai io basta che non si sappia in giro senti scusa ma al presente ti sei imbambolato mi mormora mia moglie guarda che sono tre minuti buoni che sei impalato qui davanti alla nostalgia delle guance paffute non ti senti bene o ti senti almeno male sarebbe un bel cambiamento no che dici era che era un po sovra pensiero quegli strozza preti al cinghiale tutto quello stufato al baro leinaudi hai visto che c'è mi fa lei allungando le labbra lama di coltello in un sorriso ferino tra gli zigomi scavati dall'atenia del maligno e che c'è faccio io ben sapendo chi c'è lì a tre metri da noi e che ora si sta girando completamente verso di me c'è quella finocchiona una tanto rappresa di fa finta di niente non guardarmi oltre la spalla di sublaido vuoi che andiamo via e chi è mi sorprendo io ben sapendo che non gliela do a bere quella domanda me la fai appena ti è passata la sbronza eh fonti ma se ti chiudi nel cesso a leggerlo tipico un poco di buono come te un sepolcro imbiancato come te fonti chi altri può leggere se non è non chiamarmi form zi porc si si fatti pure sentire a bestemmiare adesso un'altra attracannata di vinsanto barricato fonti il brillio da rosacea ti dona ti rende quasi umano fonti pene moscio per bollo papale ma senti questa clitoride adesso qua modera di fonsi dicono che quello lì legge nel pensiero pensa se leggesse sul mio o anche il tuo e la happy days ci esclama col suo franco e tanto più orrido sorriso l'innominabile rendendo spudo spudoratamente la mano che ignoriamo entrambi guardate che non me la sforcate mica se vi state facendo un riguardo per me oh darling ma che trend il tuo impermeabile in pelle di coccodrillo e con la martingala cara nonna speranza per sdrammatizzare la blusa del fanciullino balilla signor che chic anche leviatano veste vintage e io zitto impassibile stacco ogni corrente dello sguardo non alimento smetterà combustibile esaurito vingo con l'istinto di girarmi verso la porta il capo gorilla e già in tensione pronto a scattare lo so non voglio casini cadrei nella sua trappola e lui la faccia di bronzo continua diabolicamente argentino stavo giusto dicendo a una psicolabile di grido che non si cambia religione ci si libere anche di quella che sia non trova quel magri cristiano all'am non raccolgo mi limito a scuotere appena al capo e lui come se ogni non reazione gli stimolasse uno spunto in più anche voi mortali non comuni vorreste tanto una di queste foto e non ve la vendono pensate che io l'ho pretesa solo per mettere piede qui dentro e uuuh quante informazioni non richieste mio caro lo interrompo io e comunque gliel'hanno data e qui purtroppo mi è scappato un mezzo rotto da cucchiaino di bicarbonato a scoppio ritardato buon pro no quindi sarei pronto per fare uno scandalo oh che peccato mancarlo stavamo proprio andandocene sarà per un'altra volta dice tutta finta divertita mia moglie prendendomi a braccetto e portandomi verso l'uscita ma l'innominabile non demorde esperienza da nave scuola e small talk da discorso alla nazione di meteopatici è brava che brava mia cara è così difficile interessare senza dire mai niente di interessante anzi è qui fissa negli occhi me senza mai dire niente di niente o dicendo solo cosucce che puntellino le cosucce che si fanno in silenzio non esistono più le quinte colonne di una volta adesso sono tutte seconde quasi di retrovia buonanotte i figli maschi non ve li auguro perché mi sembra un po tardino happy days che insolente che carica un portento di uomo lui il suo specchio l'ha sfondato davvero non si è nemmeno rotto il becco e continua a gorgheggiare da dio un mito dell'altra sponda ahi noi è stato lì che ci hanno fatto la foto in fila indiana l'unica scattata in presenza ieri sera fino a prova contraria io sulla soglia e mia moglie davanti a me sul marciapiede l'innobinabile dietro che ci sovrasta di non molto ma di un po sì e stamattina sui giornali sembriamo una sovrimpressione un etrina quasi un tutt'uno da gabinetto delle meraviglie come se avessimo posato davanti al telemetro che fu giacomelli stesso dando luogo a una specie di vera però senza parte animali visibili a parte mia moglie tutta per la verità del terzo elemento cognome e cognome di questa sovrimpressione sappiamo solo io e quella là che ancora fa finta di dormire ma che non vuole ammettere che i barbiturici non le fanno più niente e nemmeno l'uso che fa del cilicio vi risparmio i titoli e gli occhielli di un servilismo stomachevole ammirevole tu scendi dalle stelle ore del cul dei lecca cul del perché lo si sappia solo noi due di casa che fissato dietro a noi ci fosse anche l'innominabile e presto spiegato neanche un'ora dopo che eravamo rientrati in diocesi mi chiama al brambi il termine del cartello della stampa e mi fa gli chiedevo il permesso di pubblicare questa foto che ci è appena pervenuta io faccio finta di cadere dalle nuvole quale foto di grazia quella di te alla mostra circa un'ora fa e io e chi me l'ha fatta chi te l'ha data ah non si sa non è l'agenzia non dobbiamo neanche pagarla e io rido sotto i baffi la paga invece un emplaine perché la foto l'ho già vista e approvata io è una mancetta dalla tasca altrui che di tanto in tanto lascia la scorta attraverso il capo scorta che ha licenza di scatto e che poi lo distribuisce in proporzione agli altri poveretti con tutto il vomito che devono ingogliarsi a trapanare quella satanata di là che appena sveglia si fa fare il primo fist fucking della giornata col cilicio in puro vello di capra armena donatele da papa montini quando fumo ricevuti in luna di miele e com'è o sei di un fotogenico e lei è uno schianto la sozzone in confronto e la unica o una che si occupa di moda scusa però c'è un problema non siete da soli e io e chi altro c'è guarda non avrei neanche voglia di dirtelo ma c'è l'innominabile e a chi diamo tanta importanza da non nominarlo l'innominabile è innominabile quello scribacchino barocco quell'iconoclasta di maniera però l'avrei sentito nominare nomen omen ma tua moglie lo sa senz'altro è sempre in televisione a sgranare scempiaggini populiste contro di noi ah lì mi coglio impreparato non guardo la televisione e chi ha il tempo come la fai lunga e chi sarà mai su via è l'unico non dei nostri e neppure di nessun altro finora un caso umano insomma vedi tu se dici che possiamo lasciarlo sarebbe la prima volta in anni intanto io non ti ho ancora detto se puoi lasciare me scusa scusami che si fa certo da come me la metti giù dura a prescindere da chi sia quel tal sublaido e qui mi tradisco apposta per vedere se mi becca nessuna reazione è un accostamento quanto meno stravagante vagamente improprio imprudente una specie di imprimatura zardato non trovi un mischiare perle pirla no dico e penso per lui altro che se vuoi lo togliamo come sempre col computer suggerisce questo ventrilo incollatore di veline fingendo di anticiparmi e io questo esagerato basterebbe offuscarlo un po' dargli una mano di grigio ma di un grigio in colore ne vero siete voi tecnici renderlo uno qualunque per caso anche lui lì nella galleria mica un riconoscibile che sta uscendo con noi ai che l'ho detto mi morderei un labbro allora lo tolgo anche dalla didascalia e dalla breve fatto te lo leggo ma no sai che io sono contro ogni censura preventiva e per l'assoluta libertà di pensiero e di parole di stampa ci mancherebbe altro e lui grazie tante una vera chicca ah che uomo fai le radiografie anche via cavo chissà come hai fatto a sapere che nella foto stavate uscendo dalla galleria grazie e buonanotte salutami la tua signora il tutto senza un filo di sarcasmo di ironia almeno come dimenticare la frase che da dietro mentre ce la filavamo è riuscito a far cadere nelle mie orecchie vede io comprendo lei ma lei non potrà mai comprendere me diventare me è stato infinitamente più difficile che restare uno come lei mio caro e non sono affatto spiacente e lì è scattata la foto non è vero è fredda è fredda è fredda